Alla distanziamento ufficiale, si parla molto francamente, fino a quando il virus c'è, fino a quando la possibilità del contagio c'è, un'autorità pubblica di governo, un'autorità soltanto, non vi potrà mai dire, abbracciate il governo, fine per leggi, ma consiglio no, cioè in altri paesi sono consigli, perché noi l'abbiamo fatto per leggi? No, c'è anche lì per in altri paesi, sono consigli, sono consigli, qui noi è per legge, lì sono dei consigli, perché lei mi trovi una legge rispettata in Italia al 95%, ma c'è anche lì. Allora, la prima è, dicevo, il distanziamento, adesso noi abbiamo liberato un'autorità, ovviamente delle regole di distanziamento, delle regole di prevenzione, che non ci meritano di tutto, se non qualche attenzione, quando siamo accorti, non so se lei è positiva o sintomatica. Ecco, ecco, come andiamo in giro però, Presidente, andiamo in giro con le carte, 45 euro pagate a un laboratorio privato, 45 euro laboratorio privato, cioè... Potrebbe essere, io non so, si ridurre una cosa, potrebbe essere positiva o sintomatica. No, c'entra niente. No, c'entra niente. L'altra signora va più a lavorare domani, cioè si crea anche un problema, cioè bisogna rispettare non solo il suo interesse, lei è sicuro di sé, ma io posso essere sicuro di lei. Ok, logico. Quindi, se noi... Però ci sono...